Ogni anno sono costruite più di 10 milioni di unità abitative per l'affordable housing nel mondo. Il 20%, circa 2 milioni, sono costruiti in progetti di larga scala. La missione di Plane Smart City è quella di cambiare in maniera rivoluzionaria il modo di progettare complessi di grandi dimensioni per l'affordable housing. Quindi un mercato appunto di 2 milioni di unità abitative l'anno che possono essere pensate, realizzate e dotate di servizi in maniera totalmente innovativa e diversa da quello che il mercato propone. Un elemento importantissimo dell'innovazione di Planet è l'Innovation Hub. È un edificio dove i nostri abitanti possono usufruire di spazi per la cucina sociale, per la biblioteca infantile, per il cinema, per la biblioteca degli oggetti, per le aree di co-working. Il nostro sforzo è sempre mettere a disposizione soluzioni tecnologiche nei nostri progetti che siano facili da utilizzare. Quindi dotare un nuovo quartiere di fibra ottica, dotare un nuovo quartiere di soluzioni che aumentano la sicurezza, che migliorano la raccolta rifiuti, che ne migliorano la mobilità. Tutte soluzioni che permettono di aumentare i servizi alla comunità e aumentare il senso di appartenenza alla comunità. Le comunità come questa sono ricche di umanità, sono ricche di competenze che noi dobbiamo attivare. Il community manager è un facilitatore, è qualcuno che mette in condizione l'abitante di fare quello che desidera. L'idea di Elena era di organizzare un gruppo di mamme perché era nuova, non conosceva nessuno a quartiere Giardino. L'ho aiutata a capire da dove iniziare. Elena mi ha aiutato mettendo l'evento sul Planet Up, dandomi la possibilità di arrivare a più gente. Si parla proprio della quotidianità dei bambini, di quello che comunque provano le mamme e quindi c'è un bel supporto fra tutte le mamme. In questo momento mi sento inclusa in una comunità. Tutto come stavo pensando, ma perché in un mondo si pensa in città intelligenti, si pensa in smart cities, per un pubblico alvo molto restritto, ricco o medio ricco. Ninguém pensa nelle abitazioni sociali e è lì che sorgono questa idea. O numero delle abitazioni sociali sono totalmente differenti, sono grandi. E quello che possiamo fare è realmente cominciare, lavorando con la economia di escala, con la democratizzazione della infrastruttura, a cambiare la vita delle persone. Nossi gestori sociali lavorano con i moratori e con le persone della regione. Questo significa inclusione sociale. Portanto, quello che è importante per noi non è semplicemente vendere lote o casa, è creare, costruire comunità. Il mio padre è analfabeto e andava 10 km di bicicleta per me portare alla scuola. Avevo vendere la mia casa per poter montare un salone di bellezza e, con un anno, la donna del estabelecimento disse, o compro il punto o vai embora. E io disse, non ho condito di comprare, ma tornare alla famiglia. E io tornare a una sala di una famiglia con la canalla chebrata. E mi piaceva molto. Il intelligente è quello che crede nella capacità del altro, e hanno credito in me. Quindi, além di tutta la struttura del salone, ho ancora stato un anno per me spiegare un anno gratis per me spiegare il mio emprendimento. Oggi ho ancora passato nella avenida e ho ancora questa sensazione che il mio salone è lì. Oggi la mia renda principale della famiglia è del Salone di Beleza. E essere la prima emprendedora, non solo della famiglia, ma della città, è un orgoglio. Parlare di Smart Cities non è semplicemente tecnologia. La tecnologia è il meglio, non è il fine. Il fine è sempre il mesmo, le persone. Il nostro obiettivo non è solo quello di realizzare case belle e durature nel tempo, ma quello di dare un luogo a cui far crescere i propri figli. In questo modo, noi stiamo dimostrando che si può avere impatto sociale pur essendo una società di real estate.